ciao a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento sui fatti più importanti successi che io ritengo più importanti successi nel periodo dall'ultima trasmissione. Oggi è una giornata fuori del palinsesto, fuori dal programma perché di solito io vado al lunedì però c'erano stati dei problemini tecnici ma riprendiamo il filo del discorso che avevo preparato per il 30 aprile. Il 30 aprile poi era dedicata la trasmissione un po' tutta al primo maggio ma riprendiamo i temi poi fra l'altro del primo maggio. Sappiamo che il primo maggio le organizzazioni sindacali l'avevano dedicato alla sicurezza sul lavoro, infatti le manifestazioni che si sono tenute da parte delle organizzazioni sindacali era titolata sicurezza il cuore del lavoro ma proprio quindi si muore sul lavoro e si muore molto sul lavoro ma si muore per incidenti sul lavoro, vediamo poi che si muore non soltanto per gli incidenti, si muore anche di effetti dell'ambiente come quelli dell'amianto, si muore anche per troppo lavoro, per troppa produzione che viene data dagli inquinamento, ma però andiamo con l'ordine. Vediamo i morti sul lavoro, i morti sul lavoro nel gazzettino del domenica 29 aprile riporta uno schemino che dice primo maggio allarme dei sindacati, troppi morti sul lavoro e porta una tabellina dei morti nel veneto perché nel nord est perché il gazzettino si occupa di questa parte principalmente e fa questa analisi, allora l'analisi è questa, chi muore ai morti sul lavoro, chi è che viene colpito di più, chi questi incidenti, che tipologia di persone subisce, questi incidenti che poi sono mortali. Allora il 29 aprile domenica il gazzettino faceva questa piccola analisi, 19 morti sul lavoro in veneto dall'inizio dell'anno, quasi tutti italiani, per la maggior parte operai a tempo indeterminato, in quasi 4 anni dal 2015 ad oggi, gli infortuni mortali sul lavoro in veneto sono stati 116, cioè in pratica 3 qualcosa, 3 e mezzo morti al mese. Continua l'articolista, dice le cronache negli ultimi tempi a livello nazionale segnalano un numero preoccupante di incidenti gravi e grandissimi sul lavoro con conseguenze in molti casi mortali. Ecco, gli incidenti sul lavoro sappiamo benissimo che non si può parlare sempre di fatalità, non si può parlare sempre di carenza, solo di informazione. È una caratteristica di di questo sistema di produzione basato sul lavoro salariato, quindi sul profitto, sul fare soldi sul lavoro degli altri, perché si lavora e si produce di più di quello che serve per mantenere la persona che costruisce le cose e quindi questa persona mantiene sempre più persone. Infatti un'analisi dopo l'ennesimo incidente successo nella fabbrica metalmeccanica a Milano dove erano morti, se vi ricordate, tre persone nella fabbrica metalmeccanica, un volantino di un'organizzazione operaia diceva non si parli di fatalità, non si parli di leggi male applicate, non si parli di risorse insufficienti, non si parli di errori umani o di morte bianche. È tutto un modo di produzione che va buttato nella patumiera della storia, perché lì nei ritmi del lavoro, nella corsa al profitto, nei tagli alle spese improduttive, nello sfruttamento quotidiano della forza lavoro, lì sta la ragione da 300 anni a questa parte di un omicidio di massa che ha nome incidente sul lavoro e meglio sarebbe chiamarlo omicidio di lavoro. Gli operai, i proletari devono tornare a difendere le proprie condizioni di vita e di lavoro con la lotta, la lotta aperta e senza sconti, insofferente di ogni se e di ogni ma e soprattutto di ogni limitazione, di ogni condizionamento, di ogni regolamentazione, devono tornare a mobilitarsi e organizzarsi territorialmente, insofferenti delle gabbie che sindacati ufficiali e partiti democratici costituiscono ogni giorno sulla pelle loro e delle loro famiglie. La difesa è necessaria e urgente, ma non basta. Ciò che deve tornare ad animare queste lotte indispensabili è la consapevolezza che o ci si prepara ad abbattere questo sistema fondato sul profitto e sullo sfruttamento, oppure questa guerra quotidiana contro i lavoratori continuerà imperterrita a fare vittime. e effettivamente qui ci sta, è il punto fondamentale, le organizzazioni sindacali, le tre organizzazioni sindacali chiedono sempre a fronte di questi morti, che poi ogni tanto quando succede la tragedia ci si scandalizza, i giornali riempiono e ne parlano, ma non più di tanto, non più di tanti giorni. Le organizzazioni sindacali chiedono sempre un tavolo, perché vogliono discutere con un tavolo di lavoro, perché il tavolo è l'essenza di queste organizzazioni sindacali, permette a queste organizzazioni sindacali di esistere, perché non hanno più quasi seguito dal mondo del lavoro. E in un volantino, in un comunicato dove leggiamo sul, il sindacato è un'altra cosa, è una componente di sinistra della CGL, della fiomma CGL, dove si dice a proposito dei morti sul lavoro, ma quando sarà il giorno della lotta, sciopero generale subito. Allora a fronte dei vertici sindacali che chiedono sempre questi tavoli di discussione, eccetera, c'è una frangia del sindacato della CGL e soprattutto della fiomma che rivendica questo. E continuo a leggere dal sito suo, il sito è il sindacato un'altra cosa, oggi sarà il giorno del cordoglio, domani magari dei funerali, ma quando sarà il giorno della lotta contro questa strage, sciopero generale nazionale? Giovedì e venerdì scorso, 5-6 aprile, si è tenuto a Roma l'assemblea dei 500 della fiomma, al termine è stato provato a maggioranza un ordine del giorno sulla sicurezza e le morti sul lavoro. Noi, cioè loro, questa minoranza del sindacato è un'altra cosa, non lo abbiamo votato e ne abbiamo presentato un altro, perché si chiedeva solo una generica mobilitazione e non uno sciopero generale, nonostante le nostre esplicite richieste di mobilitare quel punto e solo quel punto. Per questo abbiamo mantenuto al voto il nostro breve testo che è stato presentato da Andrea Paderno e altri delegati. Qual era il punto loro di questa minoranza all'interno della fiomma? Dice l'assemblea di 500 delegati fiomma, riunita a Roma 5-6 aprile, a fronte del costante aumento degli omicidi sul lavoro, giunti da inizio anno alla già esorbitante cifra di 161, chiede alla CGL, oltre ad ogni altra iniziativa, un programma sul tema di proclamare lo sciopero generale e nazionale di tutte le categorie. Per porre fine a questo intollerabile stilicidio di lavoratori è necessario mettere in campo tutta la nostra forza e determinazione. Ecco il nocciolo del problema. Come facciamono a fermare questo stilicidio di morti. Come nel passato per arrivare ad avere anche delle leggi riguardo la sicurezza sul lavoro, i lavoratori hanno dovuto lottare duramente e forte per avere dei punti fermi perché non ci siano morti sul lavoro, perché è giusto che quando uno va a lavorare la mattina sia sicuro anche di tornare a casa e non un terno a lotto di ritornare dal lavoro, ma solo attraverso le lotte bloccando immediatamente la produzione senza se e senza ma, senza guardare in faccia se la produzione poi ci rimette tutte quelle cose, la concorrenza eccetera, che viene ogni volta detta per farsi portare alla ragione tra virgolette le organizzazioni sindacali e dire no non possiamo superare in questo momento perché altrimenti perdiamo la concorrenza, ma è lo stesso principio dei sacrifici che ci fanno fare per salvare l'economia nazionale, per salvare il bilancio dello Stato, hanno aumentato l'età per andare in pensione, per essere concorrenti e quindi stornare i soldi, vi ricordo solo la Job Act ha dato 15 miliardi di Euro alle aziende di fiscalizzazione degli oneri sociali per chi veniva assunto per tre anni con la Job Act e quindi hanno tagliato sul welfare tutto, tutti questi sacrifici e queste cose vengono fatte per essere concorrenti e per salvare l'economia nazionale, però io pongo un problema semplice, il lavoratore francese o il lavoratore tedesco o anche il lavoratore di un altro paese è veramente contro il lavoratore italiano o viceversa, invece il sistema, quando io parlo di borghesia, si intende quel 1% borghesia nazionale, del 1% degli italiani che detiene il 20% del totale della ricchezza della nazione e sono 307 mila famiglie, ecco la borghesia è quella, quelli che hanno sono gli interessi che non tanto per salvare il posto del lavoro dei propri dipendenti, ma il loro profitto, a loro interessa quello che è importante, mentre noi lavoratori dovremmo essere noi produttori associati, dovremmo essere quelli che dicono no, non dobbiamo essere uno contro l'altro, noi siamo per una diversa organizzazione sociale, dove non ci sia la concorrenza come ci viene detto, il sale dello sviluppo, ma noi dovremmo essere per una pianificazione della produzione, dove il cosa e come produrre lo decide la comunità e non chi avendo il monopolio dei mezzi di produzione e quindi creando anche la scarsità del prodotto può avere il profitto e può aumentare i prezzi sul prodotto. Ecco noi ultimi dobbiamo avere una visione completamente diversa dalla concorrenza e dalla competitività che ci viene ogni giorno sbandierata, è vero che siamo in modo quasi indissolubile legati al nostro posto di lavoro, perché attraverso il nostro posto di lavoro ci danno il salario, viene retribuito il nostro tempo di vita, perché quando noi facciamo 8, 10, 12 ore di lavoro all'interno di un posto, sottraiamo queste ore di lavoro alla nostra vita, poi alla fine della nostra vita ci accorgiamo che abbiamo passato 44, 45 adesso e più anni, sempre magari chi è in ufficio 8 ore al giorno all'interno di quell'ufficio, come essere in galera, chi è all'interno della catena di montaggio, ha fatto tutta una vita davanti a rincorrere un pezzo che si muove e via dicendo, quindi che vita senza senso abbiamo fatto, mentre quelli, questi della borghesia che hanno queste 307 mila famiglie che detengono il 20% della ricchezza nazionale, possono godersi nei salotti, fare alte discussioni filosofiche, possono leggersi tranquillamente i libri, possono fare quello che più aggrada a loro, mentre il proletario o il lavoratore dopo 8 ore di catena di montaggio, ma anche chi lavora in ufficio dopo 8 o 10 ore con il tempo trascorso per andata e ritorno dal posto del lavoro, deve acutire i figli, deve andare a prenderli a scuola, deve portarli all'asilo e tutti quei lavori che ci stanno dietro nell'organizzazione familiare, gli rimane ben poco di quella giornata per dedicarla a se stesso e poi tu sei talmente stanco che magari il giornale non lo leggi, guardi e ti sfuggi dal telegiornale e ti danno tanto calcio, perché nella televisione oggi vediamo esclusivamente calcio, per cui voglio dire che c'è anche una difficoltà negli ultimi di riuscire a far passare determinati messaggi. Quindi questi sono i morti che vediamo subito, immediatamente sul lavoro, ma tornando all'elenco delle morti, ci sono anche le morti dopo il lavoro, cioè per esempio quelli che sono morti di Amianto, questo mi riferisco a un articolo apparso sul Corriere della Sera giovedì 18 aprile dove i morti per Amianto ad Ivrea titola il Corriere assolto De Benedetti, il fatto non sussiste, quindi tutti assolti perché il fatto non sussiste. Carlo De Benedetti e fratello Franco, l'ex ministro Corrado Passera, tutti facendo parte di quelle famiglie borghesi che elencavo prima e di altri dieci ex amministratori e altri dirigenti non sono responsabili della morte e delle malattie per esposizione da Amianto che colpirono i lavoratori degli stabilimenti dell'Olivetti a Ivrea. La terza sessione della Corte d'Appello di Torino, presidente Flavia Nasi, ha infatti annullato le condanne di primo grado che andavano da 5 anni a 2 mesi per i fratelli De Benedetti all'anno e 11 mesi per Passera. Per dire la sorpresa in aula bastano le prime esclamazioni lontano dalla tv, in giustizia è fatta, piange infilando subito l'uscita il familiare di una delle vittime, attenzione, questa frase andiamo via la prima che ci ripensino è invece la battuta fuori luogo di uno dei difensori, quindi De Benedetti. Queste sono cose che riporta il Corriere della Sera del 19 aprile. Si muore anche non solo di incidente, ma si muore anche per malattia dell'esposizione da Amianto e guarda caso i proprietari, quelli che dovrebbero essere i proprietari dei mezzi di produzione, che dovrebbero in base alla legge stare attenti alla salute dei dipendenti delle proprie aziende, vengono anche assolti per questi reati. Ma tornando all'ultimo punto dell'elenco dei morti, moriamo anche per troppo lavoro, per troppa attività, troppa crescita, perché qui ci chiedono sempre di crescere e quindi una della iperattività della produzione è l'inquinamento. Nella Repubblica online del 2 maggio 2018, un articolo viene titolato così, il 90% della popolazione mondiale respira aria inquinata, 7 milioni di morti all'anno, quindi anche noi, il 90% della popolazione pensiamo di essere fuori da questa minaccia, però è il 90%, quindi siamo quasi tutti. Le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'inquinamento atmosferico a quello causato da polveri sottili e ultrasottili si aggiunge quello indoor dovuto all'utilizzo delle stufe a carbone o a legna per cucinare i scaldamenti ambientali, eccetera. 9 persone su 10 nel mondo respirano un'aria troppo inquinata, con valori medi superiori a quanto raccomandato per salvaguardare la salute e lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo rapporto annuale, secondo cui sono 7 milioni in anno i morti dovuti a questa causa. Le stime si basano sui dati di 4300 città in 100 paesi relativi al 2016. Secondo la stima l'aria inquinata è causa del 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, il 25% degli ictus letali, il 43% delle morti per malattie polmonari ostruttive e il 29% dei tumori al polmone. Questi sono alcuni dati e finisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità dicendo se non agiamo subito non aggiungeremo mai l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Ecco anche qui cosa vuol dire sviluppo sostenibile quando la natura non viene assolutamente rispettata perché viene depredata, perché viene proprio rapinata, vengono proprio rapinate le risorse naturali per il profitto. Visto che eravamo, parlavamo del primo maggio, festa del lavoro, non posso non citare la sentenza di Fudora che alcuni writer, questi della gig economy, cioè l'economia dei lavoretti, questi fattorini che portano in giro il mangiare dalle pizze o quant'altro, la ristorazione la portano in giro in bicicletta, avevano tentato sei di questi fattorini, un'avvertenza nei confronti di Fudora perché loro ritenevano di essere lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, quindi avrebbero dovuto avere delle garanzie, delle tutele, come lavoratori dipendenti. Ebbene la sentenza del Tribunale ha respinto il ricorso dei reader dicendo che non sono lavoratori subordinati, per cui non possono ritenersi avere tutte quelle garanzie che, fra virgolette, garanzie che un lavoratore dipendente per legge deve avere. Però se in Italia è così, dall'altra parte del mondo, per esempio in Germania, questo è stato scalfito, cioè c'è proprio una sentenza che dà ragione ai reader i quali sono lavoratori subordinati. Ma a fronte, ed ultimo poi chiudo, sul lavoro del primo maggio, ma il lavoro in generale, ieri appariva sui giornali, il fatto che la disoccupazione è diminuita, ma è diminuita l'occupazione. Ma che tipo di occupazione è aumentata? Questi sono i giornali di giovedì 3 maggio, leggo da Il Manifesto che dice questo, attenzione, il commento ai dati dell'Istat sull'occupazione riguardanti il primo trimestre 2018 pubblicato ieri è stata fatta dalla May Day Parade di Bologna e dal corteo contro lo sfruttamento di Milano il primo maggio. I readers, i precari, gli studenti, i lavoratori con o senza contratto da dipendente o a termine, hanno capito perfettamente che la crescita dell'occupazione, anche quella giovanile, registrata negli ultimi 12 mesi, è interamente trainata dal nuovo precariato, quello creato dalla riforma Poletti che ha eliminato la causale a contratti a termine e permette fino a 5 prorogo per una durata di 36 mesi. E questa è solo la forma emersa di un archipelago di precariato fatto di lavoro a chiamata e somministrato, tutto in cambio di paghe da prefisso telefonico e senza tutele, di pensione neanche a parlarne, perché si sa che chi lavorerà si lavorerà a vita e si morirà precari. Tutele per tutti, hanno scritto sullo striscione di apertura a Milano. Continuità di reddito e reddito di base, innanzitutto, hanno rilanciato i giovani di Bologna. In pochi slogan concisi, la sintesi di un programma politico fondamentale, una scossa in un paese che annega e una stagnazione morale prima ancora che economica. Ma allora i dati del primo trimestre, a pagina 4 del bollettino, sono occupati e disoccupati. Si legge che nei 12 mesi la crescita occupazionale si è concentrata esclusivamente nei dipendenti a termine, cioè più un 12,4%, mentre risultano in calo i permanenti, cioè quelli a lavoro indeterminato, un meno 0,3%, e gli indipendenti. E continua l'articolista dicendo, sulla struttura del mercato del lavoro post jobs act, la crescita del lavoro precario si concentra nei giovanissimi, i 15 e i 24 anni disoccupazione al 31,7%, e soprattutto negli over 50. non è merito della jobs act, come ha detto ieri Renzi, impegnato a rispondere a chi, come in 5 stelle, vuole abolire la riforma. Se solo ci fosse un governo è da tempo chiaro che questa situazione è l'effetto dell'aumento dell'età pensionabile imposto dalla riforma Fornero, oltre che la già citata Poletti, antecedente al fallimentare e a tutele crescenti, dove a crescere è solo la libertà di licenziare senza articolo 18. E dopo 10 anni di crisi e 18 miliardi di euro elargiti per il governo Renzi per imprese che assumono a tempo indeterminato con la job act, ricordiamoci questi 18 miliardi, sono soldi che non entrano, sono soldi dello Stato che ha elargito alle imprese che hanno assunto con la jobs act, e questi sono stati soldi detratti dal welfare, questi sono soldi che entrano anche meno, perché sono stati fiscalizzati nell'Inps per andare in pensione, quindi noi siamo noi ultimi, che siamo ipertassati su tutto, siamo quelli che danno di più per avere meno. Quindi concludo dicendo anche con delle note positive, cioè ci sono anche delle cose da dire, che a fronte di questo ci sono anche delle lotte, dei movimenti. Leggo dalla videoconferenza di NP1 tenuta martedì scorso, dove parla delle lotte in Europa e negli USA. Nella capitale tedesca Geoff Bezos, presidente e amministratore di Amazon, ha ricevuto il premio Axel Spinger, dedicato a personalità eccezionali, che si sono distinte nell'innovazione, creando nuove strategie di mercato e mentalità. Mentalità sì, perché effettivamente la piattaforma di e-commerce sta cambiando la vita di tutti, soprattutto quella dei medi e grandi negozi costretti a chiudere a causa della concorrenza. Amazon ha circa 300 milioni di clienti e 560 mila dipendenti sparsi in tutto il mondo. Per l'occasione il sindacato Verdi, che rappresenta i lavoratori tedeschi del terziario, tra cui quelli di Amazon, ha mobilitato centinaia di iscritti, scioperando in vari hub, Lipsia, Werner, Heimberg, Hud, Hersfeld, Goblins e Graben, del colosso commerciale ed organizzando un sit-in alla Spinger House di Berlino. L'iniziativa, sostenuta dalla Confederazione UNI Global Union, che rappresenta oltre 20 milioni di lavoratori e più di 600 sindacati, e da delegazioni di lavoratori di Amazon provenienti dalla Polonia e Italia, ha ricevuto attestati di solidarietà da Spagna, Francia e Stati Uniti. La segreteria della CGL ha dichiarato che quello di Amazon non sciopero giusto, le ragioni dei lavoratori tedeschi, sempre gli altri fanno i scioperi giusti, ma la CGL è difficile che faccia sciopero generale per questi lavoratori, le ragioni dei lavoratori tedeschi sono anche in Italia, aggetto delle nostre rimedicazioni e la nostra attività sindacale. Amazon è talmente potente che ignora le minacce delle organizzazioni sindacali e durante i scioperi ha dimostrato che può smistare il traffico delle merci verso altri magazzini che non sono toccati dalla mobilitazione. Di conseguenza i sindacati hanno capito che se vogliono avere voce in capitolo ed essere riconosciuti dalla controparte devono muoversi in maniera coordinata. Le sigle sindacali FSC, CCOO spagnolo e la FiltGL Italia o la CST commerciale Francia hanno formalizzato a marzo 2018 la richiesta di convocazione del gruppo di negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo di Amazon. Per adesso il coordinamento avviene a livello di burocrazia sindacali ma presto potrebbero attivarsi dei collegamenti internazionali dal basso come quelli stabiliti in Europa dal reader di Deliveroo. Negli USA intanto continuano le sciopere degli insegnanti anche questo sarebbe da seguire perché è veramente uno sciopero oceanico. Un movimento partito da West Virginia si è diffuso in Oklahoma, Arizona e Colorado superando i confini degli stati e prendendo piede a livello generale con gli hashtag Red Forehead, Teacher Strickers e Solidarity. Ecco, io volevo terminare con questo perché questi sono esempi dove la difesa del posto di lavoro ma non solo ma anche della qualità del lavoro si fa solo attraverso le lotte senza se e senza ma e non sui tavoli di trattativa come fanno le nostre tre organizzazioni sindacali maggioritarie. quindi dobbiamo organizzarci e creare rete prima di tutto fra di noi. Con questo messaggio ho finito, vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo nella prossima trasmissione. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!